Sono quattro le azioni di intervento messe in campo dalla regione Calabria per recuperare e rilanciare il parco archeologico di Sibari sepolto dal fango dopo l'esondazione del fiume Crati. Sarà ulteriormente finanziato il progetto di rimozione dei fanghi, quindi via libera l'espletamento delle gare di appalto per la riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico con i fondi del piano di azione e coesione messi a disposizione dalla regione. Gli interventi sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alemani dall'assessore regionale alla cultura Caligiuri, dalla direttore della sovrintendenza regionale dei beni culturali Prosperetti e dalla sovrintendente regionale dei beni archeologici Bonomi. Caligiuri ha sottolineato che il 2013 è stato l'anno della riapertura della Casa dei Bronzi del Museo di Reggio Calabria. Il 2014 dovrà essere quello del rilancio di Sibari, quindi ha evidenziato il dialogo costante tra la regione Calabria e la direzione regionale dei beni culturali. Prosperetti e Bonomi hanno dal canto loro illustrato le sette gare di appalto in corso per un totale di 18 milioni di euro, la prima delle quali pari a 2 milioni di euro riguarda proprio la rimozione del fango e la ristrutturazione dei mosaici. Dottoressa Bonomi, quattro tipi di interventi importanti per fare riemergere, è davvero il caso di dirlo, il sito di Sibari? Sì, abbiamo in previsione il completamento degli interventi di emergenza post alluvione, poi un ripristino vero e proprio dell'area archeologica, ma inoltre interventi di valorizzazione di tutto il sito di Sibari, il parco archeologico e il museo. Ed inoltre, da ultimo, possiamo aggiungere anche le opere complementari che sono previste da ANAS in collegamento con la realizzazione del nuovo macrolotto della 106. La singolarità di questo sito, forse l'unicità, è proprio quella di essere virtualmente sommerso? Sì, intanto sepolto e poi quello che noi vediamo sarebbe virtualmente sommerso se non avessimo un sistema di well point che funziona ogni minuto, diciamo, e che fino adesso ha funzionato grazie all'energia elettrica, che però per noi è diventato un costo insostenibile. Tanto che abbiamo già sperimentato in una parte del parco questo sistema delle trincee drenanti che è un sistema, diciamo, tra virgolette naturale, perché non ha bisogno di un'energia per funzionare, ma funziona con quelli che sono le caratteristiche del terreno, dell'acqua di falda, delle leggi della fisica, se vogliamo. Direttore Prosperetti, finanziamenti importanti da utilizzare entro il 2015 per il sito di Sibari? Sì, i finanziamenti non sono il vero problema, diciamolo subito, perché io ho la sensazione, lavorando da tanti anni nel Mezzogiorno d'Italia, che i soldi se si sanno cercare si trovano, soprattutto se si sa mettere in fila le azioni giuste, partire dallo studio di fattibilità, sensibilizzare la politica al problema e poi le risorse arrivano, perché per fortuna ancora sia l'Europa sia la programmazione nazionale ci garantisce queste risorse. Qua il problema vero è un altro, è quello di fare in modo che queste risorse riescano ad essere spese nei tempi giusti. In questo, diciamo, l'estrema complicazione del sistema Italia non ci aiuta. bandire una gara, gestirla, soprattutto nella sua fase di aggiudicazione, è un'attività che richiede un quotidiano dribbling tra ricorsi e ostacoli di ogni genere. D'altronde è il contesto che impone questo tipo di ostacoli, pensate solo che per ottenere l'antimafia spesso si perdono dei mesi. Quindi oggi amministrare un'opera pubblica non è un gioco da ragazzi, però io sono fiducioso che su Sibari ce la faremo. Grazie. Grazie a tutti.